Questo corso è stato bellissimo, io sono Omega Health Coach, oracolo, però ogni volta scopriamo qualcosa di nuovo, un approfondimento, un messaggio dal cuore, perché si parlava proprio del cuore. Dunque è un messaggio per tutti noi di aprirsi e di aver coraggio di vivere la vita con grazia, serenità, gioia. Sicuramente sta smuovendo tantissimo, tante emozioni, tante cose che non pensavo avrebbero smosso me, anche perché è il secondo seminario che frequento, ma è davvero emozionante. È stata una bellissima esperienza, sono stati due giorni molto intensi e ancora devo capire cosa sta succedendo perché è stata una cosa veramente forte. Grazie. Molto interessante, io cerco sempre di approcciare a questi incontri senza particolari aspettative e tutto quello che arriva è molto più grandioso di quello che in realtà poi uno può ricevere se si aspetta qualche cosa. Ho trovato due persone molto forti a livello energetico, Gioi ha una forza che si sente, si sente anche dal fondo della sala, io ero in ultima posizione. E Roi è più una persona, la vedo più, la sento più come una persona molto saggia e quindi con una forza che trasmette anche col silenzio. Seguo Roi da anni, ho fatto vari corsi per oggi e ieri era una scoperta meravigliosa per me nuova, sempre imparare di più e veramente consiglio a tutti questo regalo. Grazie a My Life, grazie a tutti.